Per meglio rilevare tutte le criticità, tutti i punti della stratigrafia, la visuale di tutte le finestre, di tutti gli angoli, i barciapiedi, i dislivelli della nostra piazza Marconi, è stato fatto questo rilievo con delle macchine speciali, quindi si chiamano punti a nuvola, attraverso il quale i tecnici riusciranno poi a trasformare sulla carta, da punti a carta, quindi una loro progettualità precisa al millimetro. Questo permetterà di non sbagliare quando interveniremo sulla nostra piazza e riuscire quindi ad avere un lavoro puntuale e preciso per quanto riguarda qualsiasi tubatura, qualsiasi cavo, qualsiasi finestra, qualsiasi accesso che si vorrà avere nella nostra futura piazza. Ricordo che questo è un progetto ambizioso, ricordo che da anni che Guidizzolo aspetta una piazza nuova, questo perché ricordiamocelo, sembra passato un millennio ma soltanto due anni fa avevamo una statale con 25.000 veicoli che attraversavano e tagliavano metà il nostro paese, ora forse è un sogno uscire e respirare aria pulita. Quindi probabilmente sarà un sogno quello che fra qualche anno vedremo quando cammineremo in una piazza senza traffico e senza parcheggi. I parcheggi ci saranno, non preoccupatevi e vi stupiremo come effetti speciali, ma non si parla di effetti speciali, si parla di cose normalissime. Avremo una piazza in cui ci saranno manifestazioni, in cui la gente potrà camminare, potrà riunirsi, potrà parlare, potrà chiacchierare, potrà fare concerti, potrà anche mangiare, perché no? Sposteremo il plateatico dei nostri bar che probabilmente in futuro apriranno grazie a questo nuovo spazio da vivere, da vivere tutti insieme.